Stand Benelli, Stefano Michelotti, la casa italiana si rinnova rimanendo proprio nel socco della tradizione? Sì, quest'anno presentiamo la gamma 2017 dove troviamo quattro nuovi modelli tra cui spicca la Leoncino 500 che è una rivisitazione moderna del modello degli anni 60 che ha rilanciato la Benelli nel dopoguerra. Per quanto riguarda il pubblico giovane presentiamo la Benelli Tornado Naked T, un 125 da divertimento per ragazzi o anche per adulti che vogliono divertirsi sia in mezzo al traffico sia guidandola in città. Poi salendo di cendrata troviamo la Tornado 302R che è la sorella minore della prima Tornado quella che ha rilanciato il settore moto Benelli e proseguendo con cendrata di 500 cm3 vediamo la TRK che è una moto tutto fare che può essere usata tutti i giorni come nei weekend per viaggi anche in autostrada, montagna dove ci si vuole divertire. se ci spostiamo qui a destra invece vediamo le versioni definitive pronte per la produzione del Leoncino versione base con ruote da 17 pollici in lega o la versione trail con ruote a raggi con pneumatici e sospensioni più dedicate all'off-rodo. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie a voi.